chi te l'ha detto cioccolata ciao bellezza sta palomita bellissima allora il flow ce l'ho però non è tipo quasi terzinato tecnicissimo capito? capito? che nessuno può dire niente cioè il pezzo è però faccio la strofa che mi scapisce un cazzo occhio ciclopico freestyle si usava nelle routine per prendere tempo che era tipo sai che rappresento tipo arrivo con le lime e c'era questo che faceva occhio ciclopico massonico intriso c'era tutta la roba con l'occhio aperto e uno chiuso tutto strano poi aveva 15 anni e lui aveva già tipo 45 occhio ciclopico e sotto i nerd e lui si trova in generazione ma perché va un casino? si capia niente raga siamo saliti mi avete portato tu e vince io mi ricordo e ubriaco marcio mi ricordo solo tua mamma la voce di tua mamma per insieme che fa c'è mi e tu si mamma e tua mamma prendo la bacinella è incredibile perché tipo io mi ricordo delle cose e lui se ne ricorda delle altre assurdo incredibile buona Grazie.